La pregiudiziale è molto semplice e credo che lei la conosca anche abbastanza bene. Questo PDL semplificazione non è un PDL semplificazione banalmente, per cui riteniamo che sia assolutamente invotabile e non sia possibile discutere quest'aula. L'esempio è semplice, basterebbe prendere, cosa che probabilmente il Presidente Malvezzi non ha neanche preso per sbaglio, il regolamento, leggere l'articolo 107 bis e ci si renderà conto quali sono i temi da mettere all'interno del progetto di legge e semplificazione. Quindi qualsiasi argomento al di fuori della semplificazione non può entrare in discussione, cosa che invece immancabilmente è successo perché la Giunta utilizza questo tipo di strumento per mettere le toppe a dei buchi grandi come una casa che ha fatto. esempio più semplice, addirittura stanziamenti di risorse in legge di semplificazione che quindi non hanno nulla a che vedere, tagliamo soldi ai disabili per dare 20 milioni in legge di semplificazione al centro di Nerviano che ha già preso più di 200 milioni. Se il Presidente Malvezzi ci spiega, visto che in relazione ha mentito dicendo che quello che c'è in legge è inerente e non è vero, o non lo sa, quindi o è incapace o non se ne è accorto, io non so qual è la soluzione, probabilmente mi auguro che non se ne sia accorto perché il comma 2 dice la Commissione referente esamina il progetto di legge di semplificazione e verifica che esso non rechi disposizione estranea al suo oggetto, dandone comunicazione nella relazione al Consiglio. Allora, se quest'Aula ha ancora un valore, Presidente Cattano e mi rivolgo a lei in questo caso, è evidentemente necessario o sospendere la discussione di questo PDL o perlomeno che si possano togliere tutti quegli articoli che non hanno nulla a che vedere con la semplificazione. Perché poi l'articolo, il comma 3, Presidente, dice che il progetto di legge di semplificazione può contenere esclusivamente, la parola esclusivamente non lascia spazio a interpretazioni, disposizione rivolta alla semplificazione amministrativa, organizzativa e procedimentale, nonché disposizione volta alla delegificazione, alla deregolamentazione, all'analisi di impatto della regolamentazione e allo svolgimento legislativo. Quindi nulla a che vedere con tutto ciò. Poi, in aggiunta a questo, in attesa che il Presidente Cattano lo comunichi, veniamo a sapere che il Presidente Maroni manda la lettera il 15 maggio dicendo che si tratta addirittura di un PDL di legislatura, quindi sul quale noi non possiamo nemmeno fare un voto segreto. straordinario. Cioè qui praticamente siamo davanti alla paura del Presidente Maroni dell'Aula. Ha paura ovunque. È riuscito a mettere, a lasciare la scelta di Pede Montana al socio di minoranza Gavi. È riuscito a mettere avvocati e giudici in fin lombarda perché praticamente chi sa gestire la finanza evidentemente non ce l'avete o perché quello che avete messo è riuscito a farsi beccare con le mani a marmellata. Quindi non lo so, evidentemente qualcosa non va. Io dico che valore ha quest'Aula, Presidente Cattano. Io questa volta mi rivolgo solo ed esclusivamente a lei perché io non ho altri strumenti regolamentari per chiederle di intervenire a difesa della sovranità di quest'Aula. Noi riteniamo che sia una scelta folle perché noi non possiamo fare l'assestamento di bilancio dell'assessore Garavaglia al 16 di maggio. Perché secondo noi qui praticamente l'opposizione è inutile che stia in quest'Aula. È inutile. Ci sono stati tolti tutti gli strumenti che avevamo a disposizione. È inutile dire che regolamento alla mano non abbiamo leve da utilizzare perché le leve ci sono. Le leve ci sono e soprattutto c'è una cosa che si chiama volontà politica. La volontà politica non potete utilizzarla solamente per tenere questa maggioranza in piedi perché Forza Italia è il partito che regge. Allora tutti noi abbiamo il vuoto qua dietro perché si stanno spostando piano piano un po' di là, un po' di là. Quelli che schifavano adesso fanno gli amiconi. Allora io, Presidente, io mi appello a lei, neanche al voto dell'Aula. Potremmo chiedere adesso il voto segreto perché lei non ha ancora comunicato all'Aula della lettera, no? Potremmo chiederlo ma tanto poi ce la comunica, ci toglie il voto segreto per bloccare questo scempio. Noi riteniamo che lei non può gestire in questo modo questa situazione e le chiedo per favore, anche se so che tanto lo farà perché ne abbiamo già parlato prima, di non appellarsi agli escamotaggi, agli spazi regolamentari che vengono lasciati. Perché lei non può usare gli spazi regolamentari a suo favore quando le fa comodo per la sua maggioranza e contro le opposizioni quando non le fa comodo. Noi riteniamo assolutamente vergognosa questa situazione, intollerabile, perché da qui a ottobre, quando andremo al voto, noi non possiamo affrontare ogni cosa in questo modo, altrimenti ci vedremo costretti a creare una serie di emendamenti costanti da presentare per qualsiasi situazione per bloccare i lavori dell'Aula, perché non è tollerabile. Grazie.